Quando un torneo in un momento di forte crisi del mercato, bene ricordarlo, viaggia sulle 850 presenze, è doveroso cercare di capire quale sia la ricetta segreta. L'organizzazione di Andrea Bette e del suo staff ha ovviamente un ruolo determinante. La presenza di uno sponsor di livello è coinvolgente pure, ma non si può non evidenziare il grande supporto offerto dal casino di Campione d'Italia. Oggi è legittimamente la casa del poker italiana, perché, per chi non lo sapesse, siamo in un enclave tricolore, provincia di Como. Questo è importantissimo quando si tratta di tassazione. In pratica, i tornei che si disputano qui non sono considerati tornei all'estero. E' meno importante quando si parla di roaming o ci si connette, tariffa svizzera, o quando si passa alla cassa, si paga in franchi. E la vita costa non poco. Stipendi più alti, ma noi li prendiamo se li prendiamo in Italia. In settimana si gioca al terzo piano e sono tanti quelli che si qualificano per l'IPO. Questi giocatori, il casino, li coccola come un circolo, ma con la professionalità, consono alla struttura. Comoda autostrada, lago incantevole, sala del nono piano tra le più belle del mondo, campione d'Italia e una chicca. Se qualcuno qui fallisce, dia solo la colpa a se stesso. Se qualcuno qui vola, come l'IPO, si complimenti non solo con se stesso.